Partiamo l'intervista con i palloncini gialli e blu, così a casa non ci vedono e dopo scopriamo chi si nasconde dietro questi palloncini Io mi chiamo Stefanuccio, te ti chiami? Miriam Miriam, ti sposi? Sì Con? Con Fabrizio Adesso scopriamo Miriam, eccola qua Miriam, da dove vieni? Da Padova Da Padova, dimmi come ha fatto il tuo futuro marito a convincerti di sposarlo? Non mi ha convinta, volevo anch'io Ma te l'avrà chiesto in qualche maniera di sposare? Sì, me l'ha chiesto, me l'ha chiesto la sera di Natale in ginocchio con l'anello Lui te l'ha chiesto e mi ha detto, amore mi vuoi sposare? Voglio dividere il resto della mia vita con te Al 50-50 o di più? Al 50-50 Al 50-50 Quindi facciamoli sempre anche una promessa, te ti sogni avere dei figli? Il tuo sogno, la tua famiglia? Tipo? No, sì, un indomani sì, certo Ok, un indomani quanti figli ti vorresti avere? Due Due, maschi, femmine? Quello che viene Ok, salutiamo tutti gli amici di Padova Ciao Ciao Padova 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 Padova